catene 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 è tutti questi qua come mio cugino sebastiano tutti in mezzo alla strada a mettere le catene per fare da qui a là non è che sia tutta così sporca catene ma vada via che coda aia come da neve bravo ho chiamato i vigi per una bella constatazione amichevole dentro la bufera il gamebooster schoambego metti sulle carrelle catene ciao anche tedesco questo qua vieni vieni un asino che blocca tutti sto facendo il mio primo pieno con serbatoio vuoto meraviglioso da bravo brianzolo perché di solito da bravo terrone vengo qua con serbatoio mezzo pieno ma la gente che mette le catene in mezzo alla strada non moriranno mai 99 48 48 euro meraviglioso di solito e 70 e ti via metti via metti via e quindi e quindi brianzolo viene l'ivigno risparmiare su tanti acquisti e sulla benzina però piggio di chi non mette le gomme da neve c'è solo chi non mette le gomme da neve va all'ivigno poi si mette in mezzo alla strada a mettere le catene grazie 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 grazie